Salve a tutti e benvenuti a Dialoghi. La mia nuova trasmissione è dedicata ai talenti e alla presentazione di progetti creativi. Oggi ho il piacere di avere con noi in collegamento d'Ancona, se non erro, Andrea Ansevini, scrittore, fotografo e musicista. Andrea, io ti ringrazio molto per la tua disponibilità e ti do subito la parola in modo che tu possa presentare te e le tue produzioni, ovviamente i tuoi talenti. Grazie. Sì, grazie a te Serena e grazie a chi ci sta guardando. Vi dico solo in breve chi sono perché se no si inizia a raccontare tutto e non finiamo più perché ho fatto tantissime cose appunto. E diciamo sì, sono uno scrittore appunto in questi ultimi anni. Da prima ho iniziato a scrivere lontano diciamo 1990 con le poesie, poi sono passato a scrivere i racconti e poi ai romanzi. Nel mezzo tra le poesie e i racconti ho fatto una parentesi di circa quattro anni con un gruppo musicale dove ero tastierista e poi qui autore di testi. Siccome queste poesie che scrivevo tante volte erano a rime, da qui è venuta fuori poi la passione appunto per la musica perché dopo il gruppo si è sciolto, io con il mio amico siamo andati avanti a collaborare insieme e le mie poesie quella volta io non le recitavo e non le cantavo perché c'era il cantante del gruppo. E da lì ho iniziato a fare i primi cd. Questi cd poi nel tempo sono passati anche in varie radio, da prima locali, regionali fino ad arrivare a alcune radio nazionali e nel frattempo ho continuato a scrivere poesie e sono arrivato come ho detto poco fa ai racconti. E dopodiché sono arrivato a scrivere addirittura romanzi e da allora ho pubblicato nel 2010 un mio primo libro che è una raccolta di poesie e poi ne ho pubblicati altri sette con case editrici di cui due ne ho pubblicati come self. Sono sette libri di vario genere, tre sono tra virgolette, fanno parte di una trilogia che si chiama la trilogia della porta che l'ho pubblicato con le mezzelane case editrice, a parte il primo proprio che lo specifico come titolo è la porta misteriosa che è stato prodotto in self. E poi ho pubblicato appunto come ho detto con le mezzelane case editrice oltre la porta. Però premetto che questi libri non sono uno in seguito da quell'altro ma hanno tutti quanti i finali ben definiti quindi chiunque se uno vuole leggere non è obbligato averli tutti e tre ma comunque ci sono tra di loro solo dei collegamenti che gli mandano quelli precedenti ma ogni storia, ogni libro è a sé. I protagonisti sono sempre gli stessi, sono l'evoluzione diciamo partendo da ragazzo fino ad arrivare alla vita anziana di questa persona. Ah, ok. E questi sono quelli di rapporto, infatti molto particolari. Dopodiché ho anche pubblicato come self una raccolta di racconti che si chiama Vi è tratto a dormire? 20 racconti per restare svegli perché come ho detto prima, siccome ho scritto tantissimi racconti, ne ho presi 20 e li ho messi qui diciamo che li ho raccontati come se fosse il nonno che racconta una storia al nipote. Ah, ho capito. E tutti quanti però sono collegati tra loro da una morale ben definita che permette al nipote di entrare nel mondo degli adolescenti e arrivare negli adulti al punto tale che scriverà pure lui alcuni racconti e prende a spunto dai racconti che il nonno gli dirà. E questo è l'altro self. Invece gli altri, sempre con le mezzelanne, casa editrice, ho pubblicato Delitto in casa, le mezzelanne, che l'ho scritto con una mia amica Alessandra Piccinini, che è stata la mia prima collaborazione. Noi ci siamo un po' burlati della nostra editrice e l'abbiamo fatta o morire o scomparire. È un giallo ironico scherzoso, noi ci siamo dentro sia io che lei, la nostra editrice e alcuni autori e autrici che hanno preso parte a uno spettacolo per un fatto che è successo veramente. E noi ci abbiamo ironizzato che l'abbiamo fatta, come detto, morire o scomparire. E poi dopo di che sono arrivato a scrivere un altro romanzo, sempre in collaborazione, sempre ironico, scherzoso, sulla società italiana, cosa succederebbe se l'Italia fosse governata da Pinocchio e noi siamo tutti burattini alle sue dipendenze. E questo libro si intitola Pinocchio, anno zero. E questo libro qui, questo libro, l'ho scritto con una mia amica che si chiama Viviana Nubilini e è la mia seconda collaborazione. È alla profazione del cantatore di questo libro, Umberto Napolitano. Sì. Fino ad arrivare all'ultimo, che è uscito adesso qualche mese fa, ormai circa quattro mesi quasi, con un'altra casa editrice, la Dragonfly Edizioni. È questo di cui oggi vi parlerò, che si chiama invece Morte nell'acciaieria. E siamo qui, giunti appunto ad introdurre questo tuo lavoro. Questo è in breve. Sì. Allora Andrea, io ti ringrazio per questa piena introduzione. Prima di parlare nel dettaglio di questo tuo nuovo libro, volevo chiederti, perché questo è uno dei focus principali di questo mio spazio, come è nata questa tua forte, diciamo, passione per la scrittura e quando hai capito che fosse il momento giusto per mettersi in gioco e cominciare a pubblicare? La passione per la scrittura è nata, come ho detto all'inizio, siccome all'inizio ho scritto poesie, nel lontano, addirittura al 1990, avevo un pensiero in testa e è venuta fuori la prima poesia. È venuta fuori da lì, ho sempre scritto appunto, come detto, poesie fino ad arrivare ai racconti e romanzi. È venuta per puro caso. Ok. C'è questo pensiero nella testa e è venuta fuori questa cosa qui. E da lì non mi sono mai fermato, a parte un paio di volte, ho sempre scritto e sempre continuo a scrivere. E quindi si è diventato appunto un fiume in piena e l'abbiamo visto. E ormai sì, non mi fermo più, infatti. E' giusto che sia così. Allora, ascolta Andrea, passiamo dunque a parlare del tuo nuovo romanzo che, come dicevi prima, è uscito quest'anno, quindi è proprio il tuo ultimo lavoro. Ed è intitolato... Sì, in quattro anni fa circa metà settembre è uscito. Ah, ok. Ce l'ho qui, lo faccio anche vedere, se uno lo vuole vedere... Sì, sì, si vede benissimo. Morte nell'acciaieria. Parlaci tranquillamente di questo tuo nuovo libro, di che genere è e come ti è nata questa idea. Sì, è un, diciamo, più che altro, anche questo è un thriller con qualche piccola sfumatura horror, questo libro. E diciamo, come genere è questo qui. E mi è nato per puro caso, prendendo spunto purtroppo da quello che sentiamo della televisione, incidenti sul lavoro, infortuni, cose varie. E mi sono detto, visto che tutti gli altri miei precedenti libri li ho ambientati sempre in Italia, in posti qua attorno, che conosco, questo qui invece l'ho ambientato a fine anni Sessanta, prima anni Settanta in America, nello specifico a Pittsburgh, dove durante una tranquilla giornata di lavoro, tranquilla tra virgolette, purtroppo viene scombinata questa giornata dal ritrovamento di una mano in un altro forno. E subito tra gli operai scoppia il panico. Tutti quanti si interrogano di chi ha questa mano, perché purtroppo nessuno sa darsi delle spiegazioni per quanto è successo. Non si capisce poi se è veramente un omicidio premeditato o un incidente sul lavoro. Perché poi quando arriva il tenente e inizia a fare le varie indagini per scoprire cosa può essere successo, si scoprirà che questa mano appartiene al responsabile di produzione. Interrogando i vari operai in base al ritrovamento di questa mano, interrogatori vari, si scoprirà chi più chi meno, ce l'avevano tutti con questo responsabile. E quindi a quel punto cosa sarà? Sarà un omicidio premeditato o sarà un incidente sul lavoro? Perché nel frattempo succederanno tante cose prima di arrivare alla verità. Purtroppo, alla fine, chi ne fa le spese più di tutti è il povero Jacob Wright, che è un operaio che ha la passione per la scrittura, che viene sempre sorpreso a scrivere finché lavora, viene sorpreso a fare cose strane. Però lui, la verità, la sa tutta perché faceva parte anche del gruppo di soccorso e lui sa come sono andate veramente le cose. Quando perderà il posto di lavoro, scriverà questo libro dove dirà tutto quello che è successo. E quindi vi lascio con questo mistero. Di più non vi posso svelare. No, no, certo, questo no. Ascolta, Andrea, per quanto riguarda le caratteristiche di questo tuo libro, quindi abbiamo detto che è un thriller con delle sfumature, anche dei momenti anche horror. Sì, qualche piscolo alla sfumatura, horror, sì, perché c'è questa mano che viene trovata, diciamo, mozza e quindi non si capisce. Ci sarà anche un incidente sul lavoro pure, dove un operaio purtroppo perderà un braccio. E questo però, chiaramente, c'è anche un discorso, comunque una caratteristica, un aspetto di denuncia, se vogliamo, perché come dicevi, è comunque ispirato da fatti che, ahimè, succedono. Sono sotto gli occhi di tutti, infatti. Esatto, esatto, quindi c'è anche, non dico un po' un aspetto di inchiesta, ma sicuramente la denuncia di problematiche che effettivamente meritano un'attenzione particolare, sia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, che poi sulla soluzione, no, che è quella della sicurezza dei lavoratori. Quanto c'è di autobiografico in questo romanzo? Perché da quello che ho capito, il personaggio principale, che è poi quello che scrive, è praticamente, non dico un tuo l'alter ego, ma è un personaggio che ti rappresenta. Vuoi approfondire questo discorso, se vuoi? Lo dico proprio perché prima, quando ho spiegato gli altri libri, io ho l'abitudine di mettermi, diciamo, o tra gli amici dei protagonisti, oppure come qualche comparsa, in tutti i miei libri, faccio qualche piccolo cameo. E qui c'è questo operaio, sì, Jacob Wright, un operaio che ha la passione per la scrittura, e c'è molto di me, perché io spesso, anche quando, lo dico veramente, anche quando sono sul posto di lavoro, che sono intento a fare delle cose, nella mente, ogni tanto mi viene in mente qualcosa da scrivere, qualcosa da pensare. Dopo, quando sono a casa, oppure in pausa pranzo, prendo e scrivo quello che mi viene in mente. Quindi c'è abbastanza di me in questo operaio. Non è così proprio che si distrae facilmente, che scrive finché lavora. Questo no, non capiterà mai. Certo, è romanzato, certo, però c'è molto comunque di... È un po' ironico, romanzato, è venuta fuori questa cosa qui. E quindi sì, c'è qualcosa di me. C'è l'operario proprio che è sposato, infatti, visto che io del lavoro sono anche operario in un'edità di elettronica, c'è l'operario che è sposato, infatti io sono sposato anche con mia moglie. Lui pure c'è una moglie con cui si consulta, io pure con mia moglie mi consulto sempre. E come dico con tutti, è la mia muse spediatrice, perché lei sa le cose prima di tutti, legge delle cose prima ancora che le mando alla casa elettrice, se c'è qualcosa che non va me lo fanno tarare. E quindi c'è molto di vero da questo punto di vista. Un lavoro di team, praticamente. E sì, infatti, poi c'è questo traio che pure sì, ha la passione per la musica come me. Infatti anche io come moglie abbiamo fatto alcune cose, prima abbiamo detto della musica pure, della mia passione, abbiamo fatto di recente un nuovo CD che abbiamo pubblicato insieme. E quindi c'è qualcosina di me in queste cose che mi dispecchia. Beh, questo diciamo l'ho potuto un po' capire perché ovviamente leggendo un po' i vari passaggi nel tuo romanzo che ho letto, oltre ad esserci scritto ovviamente è molto tangibile questo parallelismo. Uno degli aspetti che mi ha incuriosita di più di questo tuo romanzo è che poi è scritto appunto da questo protagonista, ma molto anche sotto la forma di diario, no? Perché comunque ci sono delle date, ci sono degli orari e probabilmente c'è questo riferimento al fatto che lui scrivesse proprio durante, diciamo, l'orario di lavoro. Esatto, sì, perché è tutto ben definito secondo una, diciamo, logica come tutti i gialli che si rispettano, perché a determinate cose succedono qualcosa e quindi quando bisogna ricostruire la storia verrà fuori appunto tutti i vari particolari. Sì, e oltre a Jacob Wright, quali sono, diciamo, se puoi dirlo, quelli che sono tra i protagonisti principali di questo romanzo? L'altro protagonista principale è purtroppo, sì, quello che verrà trovata a questa mano che si chiama Bob Springsteen, infatti anche qui c'è la mia passione per la musica, è un mix tra Bob, diciamo, tra Bob, Bob, scusa che mi stavo andando a tossire, è proprio la passione per la musica, appunto come detto, che si chiama Bob Springsteen che è una passione tra Bob Marley e Bruce Springsteen. Ah! Loro iniziavano a cantare, quindi ho creato questo personaggio che ha questo nome e cognome, prendendo spunti a cantanti che esistono veramente. C'è dal punto di vista dei personaggi anche il Tenente Denver, che spunti al cantante John Denver, in cui poi questo tenente Denver ha un padre che muore di incidente aereo e John Denver, proprio cantante, è morto come sappiamo tutti di incidente aereo. E quindi c'è molto anche qui, la mia passione per la musica, la smessa dentro questi personaggi. E quindi i personaggi principali sono questi, oppure sì, ci sono quelli che stanno tutti intorno, che sono personaggi secondari. Sì, un'altra domanda che volevo farti relativa al protagonista, che abbiamo detto è uno degli operai presenti nel romanzo. Lui ha soltanto il ruolo, diciamo, di osservatore all'interno di quello che accade, diciamo, per quanto riguarda tutta questa vicenda anche di questa morte, oppure c'è un coinvolgimento anche suo diretto, diciamo, nelle varie ricerche della polizia, nelle varie analisi, insomma, della situazione? C'è un po', un po', c'è un po' l'operaio stesso che lavora, un po' anche sì, questo coinvolgimento, perché lui, lo diciamo, anche l'ha detto al primo soccorso, quindi sarà lui, insieme a un altro responsabile, a correre quando verrà trovata questa mano. E quindi cercherà all'inizio poi lui di fare chiarezza tra gli operai, cosa è successo, se qualcuno ha visto qualcosa, insieme, diciamo, al responsabile della sicurezza. Però purtroppo, non riuscendo a capire niente, a quel punto arriverà proprio la polizia a iniziare ad avviare le indagini per fare chiarezza ulteriore. Ho capito. E quindi, da questo punto di vista qui. E chi, se vuoi aggiungere qualcos'altro sul tuo romanzo, sei libero, eh, Andrea? Io non voglio farti svelare troppo, perché... No, infatti, più di tanto, infatti, perché io sono sempre telegrafico su tutto, dico solo per tanto che basta, giusto per incuriosire, senza mai approfondire più di tanto. Posso dire solo che tutto al più di questo romanzo, visto che prima dicevo di un altro libro, ho avuto la prefazione del cantatore Umberto Napolitano, qui invece ho avuto proprio, invece, un video proprio che mi ha fatto proprio Maria Giovanna Elmi. Ah, ok. Che sta in anteprima, del book trailer in anteprima, e mi ha fatto proprio, diciamo, una piccola recensione video, che si può vedere anche sul mio profilo di Facebook, lo potete trovare su Instagram, su YouTube, e quindi ho queste collaborazioni anche con gente abbastanza nota nello spettacolo. Perfetto. E ascolta, quindi, se chi volesse acquistare questo tuo romanzo, come i tuoi altri libri, dove può... Quali sono i canali principali, ovviamente, dove può reperirli? Questo, come tutti gli altri romanzi, a parte quelli self, se uno vuole, gli deve chiedere a me che, apparentemente, li spedisco, così come tutti quanti i libri che ho pubblicato finora, se uno lo volesse anche acquistare proprio, si trovano su tutti i store principali, su Amazon, sul sito della, in questo caso, della Dragonfly, sul sito della Dragonfly, gli altri sul sito delle Mezzelanne Casitrice, oppure sui store IBS, Feltinelli, la classica libreria sotto casa, basta lasciare il nome e cognome, e il sito del libro nel giro di qualche giorno vi arriva. L'unica cosa, a differenza degli altri, questo è la Dragonfly, disponibile anche in Kobo. Ah, perfetto. Quindi si può ordinare anche come Kobo e si trova in questa disponibilità pure. Perfetto. Dite gli altri, come Kobo, non si trova. Ah, ho capito, quindi c'è questa ulteriore aggiunta, perfetto. C'è questa aggiunta in più. Ascolta, Andrea, se ti fa piacere, possiamo approfondire anche questo tuo altro talento e passione, che è la musica, no? Mi dicevi che comunque hai pubblicato, anche insieme a tua moglie e ad altri tuoi amici, già diversi CD, e mi ha colpito molto questa particolarità di abbinare la poesia alla musica. Ti fa di parlare di questa particolarità, di spiegarci la difficoltà che può esserci, insomma, nell'abbinare queste due arti insieme? La difficoltà iniziale all'inizio, cioè, tanto io parlo sia musicista, ormai che tanto le musiche spesso me le compongo anch'io, che questo mio amico mi ha imparato anche a comporre musica, che prima, cosa che faceva lui, è stato un bel abbinamento, perché tanto lui, leggendo questi miei testi, gli erano molto piaciuti, ha detto perché magari non provare a mettere in musica. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto questo esperimento quando eravamo col gruppo musicale, e veniva fuori questo cantante che avevamo nel gruppo, che lui cantava o recitava queste cose che io scrivevo. Dopodiché, quando il gruppo si è sciolto, siamo andati avanti da soli, e lui mi ha iniziato a produrre musica, mi ha spiegato come si fa a comporre, e da lei ho iniziato a fare i miei primi CD, diciamo, da solista, dopo che il gruppo si è sciolto, sempre, soprattutto la visione sua. Poi questi CD, come ho detto, poi pian piano sono arrivati, per puro caso, anche alle radio, la prima propria è stata Radio Outmark con Giancarlo Guardabassi, che lo conosciamo tutti a livello nazionale, lui mi ha iniziato a trasmettere questi CD, e mi ha iniziato a chiamare la sua radio per una prima intervista, che erano molto piaciute queste poesie, questi brani di rap che scrivevo, perché scrivo anche brani di rap, diciamo, purtroppo, prendendo spunto da cose attuali, tra virgolette, sui malanni della società che abbiamo oggigiorno, che sappiamo tutti. Ma non è solo questi, ma ho scritto anche brani di rap romantici dedicati a mie moglie, su tante altre cose, sull'amicizia, su magari paesaggi della natura che vedo, che magari li scrivo in poesia e me la musico, e poi, dopodiché, quando ho conosciuto mia moglie, questo che facevo da solo, poi lei qualcosina scrive, però lei più che altro, diciamo, sta nell'ombra, non è che è così prolifica come me. E io ho provato a dire, perché non vuoi scrivere, perché non fare qualcosa anche insieme? Ogni tanto abbiamo fatto qualche incisione insieme, un po' di poesie mie, un po' di poesie sue, oppure qualcosa che facciamo assieme, o poesie o brani di rap. E da qui abbiamo detto, abbiamo provato a fare un cd, ne abbiamo fatto un altro, non contenti, siamo arrivati appunto a sette, e l'ultimo che è uscito, infatti, l'ultimo cd si intitola proprio sette, è questo qui. Ah, ok, sì, avevo visto da qualche parte bene. C'è questo, poi dietro abbiamo il titolo, non so se si leggono, se no... Sì, qualcosa... Ascolta, a questo proposito, visto che li stiamo facendo vedere, sono acquistabili su qualche canale questi cd, oppure sono, diciamo... Sono cd che io faccio in casa, che se uno mi richiede, li spedisco, se no ogni tanto noi, siccome anche la passione, come abbiamo detto appunto, hai detto all'inizio, della mia fotografia, infatti questi cd pure, gente che io faccio, ci realizzo dei piccoli videoclip fotografici, con foto attinente a quello che si dice, oppure con immagini filmati, che faccio io quando vado in giro, faccio dei filmati, mi adatto poi alla musica, e quindi si possono ascoltare anche sul mio canale di YouTube, oppure se uno vuole, sì, si può acquistare, ma comunque uno me lo chiede, lo spedisco, perché i negozi, diciamo, non si trovano, perché è prodotto in casa. Ok, quindi direttamente tramite... Direttamente ai negozi, no, quindi uno basta che lo chiede a me e si spedisce. Ok, quindi per rispecificare, tramite te possono, diciamo, richiedere sia i cd, che i libri autopubblicati, come abbiamo già detto. poi ogni tanto, se uno vuole, li può ascoltare anche qualcosina, anche sul mio canale di YouTube. Perfetto. e quindi con queste dirette, quindi dovete andare indietro di circa tre anni, tre anni e mezzo fa, per iniziare a trovare qualche cosa. Di recente sì, c'è qualcosina che è uscito, poi un altro video tratto da questo nuovo cd, uscita adesso tra qualche settimana, quindi ogni tanto qualcosina verrà caricato. Perfetto. Quindi, ascolta, per chi volesse approfondire su quelle che sono le tue attività, e leggere, oppure ascoltare quelle che sono le tue produzioni, quali sono i canali principali dove possono trovarti? Quindi abbiamo detto YouTube? A parte YouTube, sì, per queste cose qui, dopo ho Facebook, il mio profilo, come nome e cognome mio, Andrea Ansevini, come scritto qui, ho Instagram, sempre Andrea Ansevini, Twitter, li ho, diciamo tutti, ho l'ultimo che è uscito adesso da Coppola, che si chiama Waveful, mi trovate su LinkedIn, dovunque. Ok. Al limite proprio, scrivete su Google, nome e cognome mio, Andrea Ansevini, vi si apre il mondo, trovate di tutto e di più. Perfetto. E ascolta Andrea, quali sono, se vuoi anticiparci qualcosa, i tuoi prossimi progetti, le due prossime idee? Progetti in futuro, sì, ne ho, diciamo, una caterva anche qui, ho, solo l'anno scorso ho finito a scrivere sei libri, di cui tre in collaborazione, con tre amiche diverse, uno verrà alla luce adesso a fine 2023, un altro doveva uscire nei primi mesi di questo anno, e quindi ho anche altri libri che ho mandato già alla Casa Editrice, alle Mezzelanne Casa Editrice, appunto, ho seguito proprio la quarta parte della Porta, un noir che ho mandato, ho un altro libro ancora che, sarà tratto da una storia vera, quindi non molto, sto scrivendo un libro in collaborazione con tre mie amiche, uno che riguarda personaggi dei fumetti, dove mi sono messo in mezzo, io e questa mia amica, in mezzo a fumetti, cartoni animati, una cosa particolare venuta fuori, che di più non posso svelare, sto scrivendo un libro, diciamo, per bambini con un'altra mia amica, dove abbiamo scritto delle storie insieme, in più lei farà dei disegni, e quindi ho tante cose in cantiere. Bene, bene, quindi anche, diciamo, è molto presente, diciamo, nelle tue produzioni, questa integrazione continua tra le varie arti e collaborazioni, che è un aspetto... Esatto, anche molto, sto scrivendo proprio un horror ambientato qui dove vivo, quindi sarà un romanzo molto molto particolare, questo qui. Quindi diciamo che i generi, i generi, diciamo i tuoi più di... a cui ti dedichi, per quanto riguarda la scrittura, sono quindi sempre un po' i thriller, la denuncia... Per l'altro sì, però quello che preferisco più di tutti è il fantasy, dopo sì, ciò che mi piace molto, i thriller, i horror, il fantasy, quello che prediligo più in assoluto, dopo sì, c'ho i thriller, appunto i horror, mi piacciono molto anche i gialli, i libri di avventura, quindi quelli che prediligo più di tutti, uno trova sempre fantasy, oppure thriller, oppure cose horror, questo è quanto. Ho capito. Allora, ascolta Andrea, io ovviamente ti invito, per quanto riguarda i tuoi prossimi progetti futuri, qualora volessi presentarli di nuovo, ti do la mia disponibilità per un nuovo spazio qui a Dialoghi. per quanto riguarda la presentazione del tuo libro, quindi per tornare a morte nell'acciaieria, vuoi comunicarci, non so dove sarà la tua prossima presentazione, che sia online oppure fisica, se fai anche presentazioni fisiche del libro? Sì, sì, online, quindi ne ho già diverse in programma, però una fisica proprio, la lavoro adesso il 20 di gennaio, la lavoro alla Biblioteca Comunale di Aguiano, alle ore 18 di sera, e come ci sarà una mimica cantante, che poi lei presenta anche il suo libro. Ah, perfetto, perfetto. Allora io ti do ancora qualche minuto se vuoi aggiungere qualcosa di più su quelli che sono i tuoi lavori, senza problemi, se vuoi dire ancora qualcosa. Altro da dire? No, quello che c'è a dire ho detto tutto. Perfetto. Questi libri che ho scritto, altro, questi programmi online, sì, dove ci sei tu anche ospite, come detto, altro non ho a dire, tutto qua. Va benissimo. Allora guarda, io a fine ovviamente dell'intervista, chi ci segue potrà vedere ancora una volta, è meglio la copertina del tuo ultimo libro, quindi Morte nell'acciaieria, e potrà trovare anche i link di quelli che sono i tuoi canali principali di divulgazione, dove possono approfondire su quelle che sono, le tue attività e sui tuoi prossimi progetti. Detto questo, io ti ringrazio molto per aver aderito a questo spazio e per averci fatto conoscere ulteriormente quella che è la tua attività, e ti do appunto, ecco ti rinnovo il mio invito a tornare qualora volessi, e ringrazio voi per averci seguito. Io ringrazio te, e poi io ringrazio tutti che ci hanno visto, e speriamo di ritrovarci presto. Assolutamente. Vi congusti tutti, e rimaniamo in contatto, e rimaniamo soprattutto aggiornati. Assolutamente sì, e sei il benvenuto Andrea. Quindi grazie ancora, grazie a voi, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Dialoghi. A presto. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.